Ci troviamo a Piazza del Quarticciolo e cerco di immaginare la gioia del Presidente Mastrantonio all'epoca, il Presidente precedente a Palmieri, quando seppe della notizia che arrivavano dei soldi, oltre 1.200.000 euro per la riqualificazione di questa splendida piazza storica della nostra città. Ora noi siamo venuti qui sul posto e abbiamo trovato un cartello abbandonato qui tra le sporcizie dove viene indicata la data di inizio lavori, ovvero giugno 2012 e anche la data di fine lavori, gennaio 2013. Ora entriamo in questo bar e vi facciamo sentire dalla viva voce dei commercianti da quanto tempo siamo in queste condizioni. Due anni, sono due anni che ci viene in giro, domani, domani, domani cominciamo i lavori, domani cominciamo i lavori non abbiamo mai visto nessuno. Scusa, come cominciamo i lavori? Lì dovevano iniziare nel 2012 e terminare a gennaio? Esatto, infatti hanno cominciato ma così è rimasto. Ci hanno rovinato come lavoro perché noi il lavoro così ci è calato molto, purtroppo però sempre una presa in giro, sempre domani, 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 domani. È rimasto sempre questo domani, sto qua due anni che siamo così con questa piazza tutta sponnata. So che hai delle fotografie di com'era la piazza prima? Ce le fai vedere? Sì, se viene iniziato con me vi faccio vedere. Queste sono le fotografie dell'anni 50, com'era la piazza prima, era una cosa favolosa, adesso è uno schifo totale, dove vengono i topi, dove ci sono i gatti, dove ci sono tutti animali che noi purtroppo non troviamo più perché ne facciamo più. Caro Presidente, si ricorda anche le piazze del Quarticciolo? Anche noi paghiamo le tasse, però siamo tutti, siamo abbandonati a noi stessi e venremo solo presi in giro sempre a domani, a domani, a domani. Caro Presidente, con l'occasione, se ci fa sapere che fino hanno fatto il milione e 200 mila euro, noi saremo molto contenti e torneremo su questa piazza fino a quando questi lavori non saranno terminati.